La storia della moda è scandita da grandi rivoluzioni, abiti iconici, rotture di schemi, sfilate spettacolari e letteralmente indimenticabili, ma anche dai colori. Certo, tutte le diverse cromie hanno ed avranno sempre un ruolo di primaria importanza nell'universo della moda, però voglio riferirmi a quelle precise tonalità diventate granitici simboli di alcuni stilisti e dei loro rispettivi marchi, spesso creati dagli stessi couturier, che così hanno raggiunto la perfetta espressione della loro arte e della loro poetica. Dietro ognuno di questi colori ci sono aneddoti, desideri, ricerche e sperimentazioni. Scopriamoli insieme! Sono Maddalena e tu sei su Adam Ascarisma per tutti, il canale giusto per imparare ad ottenere tutto ciò che vuoi. Iscriviti subito al mio canale e clicca sulla campanellina per non perdere i miei video che pubblicherò ogni lunedì e venerdì alle 13. E ricordati di lasciarmi un like, il rosa Schiapparelli o il rosa Shocking. Elsa Schiapparelli, la rivale di Coco Chanel, e come Mademoiselle Coco, una donna che ha lasciato un segno indelebile nella storia della moda. Il suo genio si è tradotto in estrosità ed innovazione. Pensiamo ai pullover effetto trompeoil, ai capelli estrosi, alle collezioni a tema. Ma Elsa Schiapparelli è anche l'inventrice del rosa Shocking, una tonalità intensa e pura di rosa che vira verso il magenta. Così deciso, prepotente ed acceso da scioccare appunto. Dopo lunghe ricerche Elsa riuscì finalmente a raggiungere il risultato desiderato. Per il debutto di questa sua creatura nel 1937 non scelse un indumento, bensì un packaging. Quello del profumo Shocking di Schiapparelli, profumo che catalizzò l'interesse generale. Nel giro di poco tempo Elsa rese questo colore il suo marchio indiscusso. Una decisione pienamente rispettata dal gruppo Toads che rilevò il marchio nel 2006. Il rosso Valentino intenso, brillante, inconfondibile, audace. Un sapiente mix fra cadmio, carminio e porpora. Il rosso Valentino da sempre è il simbolo della maison. È un simbolo indiscusso. Passano i decenni ma continua ad incantare tutti. Esprime alla perfezione l'idea che Valentino ha della moda, della sua potenza espressiva. Il rosso Valentino è l'eleganza che cattura gli sguardi e non teme rivali. Pare che l'epifania risalga agli anni in cui Valentino era ancora uno studente. Durante una rappresentazione lirica all'opera di Barcellona rimase letteralmente folgorato dall'abito di velluto rosso di un'anziana signora. Studiò quel colore sino a trovarne l'interpretazione perfetta e non lo abbandonerò mai più. Per Valentino la bellezza del rosso può essere recuperata solo al bianco e al nero. Il grege, discreto, sofisticato e naturale. Con questi tre aggettivi Giorgio Armani descrive il grege che da sempre identifica il marchio e spesso è giunto alle sue massime espressioni e perfezioni interpretative grazie all'uso di sapienti monocromie. È una sua creazione il risultato, come si deduce subito dal nome, dell'incontro fra il grigio ed il beige. Estremamente versatile può essere facilmente abbinato alle più svariate nuance e consente perciò di sperimentare sempre ampliando gli orizzonti della creatività. Re Giorgio predilige le tonalità sobrie, naturali e neutre. Partendo da presupposto che i colori possono influenzare gli stati d'animo, il celebre stilista ha trovato nel grege un perfetto generatore di tranquillità e serenità. E il blu balestra. Renato Balestra ha sempre adorato il colore dei fiordalisi. Sin da piccolo si doveva scegliere un oggetto, anche un abito, e restintivamente attratto da quel punto particolare di blu, che al di là dell'innegabile bellezza per lui rappresentava gioia, emozione e felicità. Poi l'ha personalizzato e così è diventato la sua cifra stilistica. La prima apparizione risale agli anni 60. Si trattava di un abito a palloncino che conquistò decisamente grandi consensi, l'arancione di Hermès. Il colore simbolo di Hermès è invece l'arancione. E la storia è molto particolare. Correva l'anno 1945, tempi molto duri, la seconda guerra mondiale stava per finire e la situazione generale era dir poco difficoltosa. Emile Maurice Hermès, nipote del fondatore della Maison, non riusciva in nessun modo a riperire le scatole beige che l'azienda di famiglia utilizzava per le confezioni. Si ritrovò fra le mani alcuni cartoni di un arancione piuttosto acceso ma comunque molto elegante e così decise di utilizzare quelli. Era un colore raffinato ma decisamente particolare, estroso per l'epoca. Nessuno, lui per primo, avrebbe immaginato che proprio quel colore avrebbe contribuito in maniera preponderante al successo del marchio rendendolo assolutamente riconoscibile in tutto il mondo. E naturalmente non mi riferisco solo alle scatole e al packaging in generale ma all'intero universo Hermès. Dai tuilli ai mitici carré, dalle iconiche borse agli allestimenti delle boutique. Un arancione molto caldo, quasi terroso, che è diventato un marchio distintivo in tutto il mondo. Il grigio Dior. Non tutti lo sanno ma nella prima metà degli anni 50 Christian Dior scrisse il piccolo dizionario della moda nel quale fra l'altro si legge grigio il più funzionale ed elegante dai colori neutri. Una sfumatura delicata e di gran classe che non scelse solo per l'allestimento della mitica boutique di Parigi ma che rappresenta l'identità del suo impero. Una passione nata dall'infanzia e strettamente collegata alla villa di famiglia nella bassa Normandia. Era grigia e rosa, villa che ha influenzato il suo intero modo di vivere. Il verde di Bottega Veneta. Un verde acido e brillante su cui Daniel Lee, direttore creativo di Bottega Veneta, sta puntando con grande determinazione per gli indumenti ma soprattutto per gli accessori, forse in primis. Un colore non per tutti ma che sicuramente non passa inosservato. Il Blue Tiffany. Il Blue Tiffany è la varietà di blu associata all'azienda sottunitense Tiffany & Co. Tale colore, utilizzato per le confezioni dei gioielli, è un marchio registrato. Il colore è una varietà di blu personalizzata, realizzata da Pantone, con spazio dei colori PMS 1837, numero che trae origine dall'anno di fondazione di Tiffany. Tutto inizia nell'anno 1845, quando Charles Lewis Tiffany, commerciante visionario con la passione delle pietre preziose, sceglie di utilizzare l'inconfondibile colore Tiffany Blue per la copertina del primo catalogo di vendita per corrispondenza di Tiffany & Co. Mentre andava in stampa il primo Blue Book, poi diventato raccolta tra le più belle creazioni della Maison, cominciava a prendere forma uno dei packaging più celebri mai realizzati, la Tiffany Blue Box. E dopo quella prima pubblicazione infatti che Tiffany & Co, nata a New York otto anni prima, decide di utilizzare il Tiffany Blue per tutti i suoi materiali promozionali, comprese le shopping bag e le scatole. È conosciuto anche come azzurro uovo di pettirosso, per la sua grande somiglianza con il colore delle uova dell'uccello americano Turtus migratorius. Ma è grazie alla nascita di un'altra icona di Tiffany & Co, che la celebre Blue Box viene consacrata. Nel 1886, quando viene lanciato il Tiffany Setting, l'anello di fidanzamento come lo conosciamo oggi, cioè un solitario con un diamante taglio brillante, sorretto da una montatura a segrif, la scatolina blu diventa famosa quanto il solitario. E proprio come preziosi gioielli dell'azienda diventa un oggetto del desiderio. Si dice addirittura che ogni giorno entrasse qualcuno in negozio chiedendo di comprarne una. Anche se Charles Louis Tiffany era assolutamente irremovibile. Nessuna Blue Box poteva lasciare il negozio se non accompagnata dall'oggetto comprato. Diceva infatti, Tiffany è in negozio una cosa che non si può comprare per nessuna cifra, ma che si può ricevere solo in regalo una delle sue scatole. Il rosso Cartier. Il rosso colore della sovranità è dunque perfetto per il gioielliere del re e il re dei gioiellieri. Colore diventato icona indiscussa della Maison dopo il lancio di una linea di accessori della precisa sfumatura fra il lampone e lo scarlatto, chiamato appunto rosso Cartier e che è stato registrato. Un colore inconfondibile e di un'eleganza assoluta che caratterizza tutte le prestigiose confezioni della Maison. Sono alcuni dei colori iconici ed immediatamente riconoscibili che hanno fatto la storia della moda e dello stile. Per rendere ancora più carismatica la tua presenza scenica anche tu potresti eleggere un colore in una particolare gradazione come tua nota identificativa. Adamas diventa come un diamante, brillante, prezioso ed invincibile.